A tutti, sono Alessandro Di Berardino come detto, oggi siamo qui in fiera per festeggiare i nostri 10 anni di attività, abbiamo portato qualche novità, la nostra già è una novità però ne abbiamo portate delle nuove, la prima sono le nuove rotelle di alluminio richiamate dal pieno, la seconda i nostri strumenti già sono personalizzabili al massimo, abbiamo aggiunto la possibilità di poter personalizzare col proprio nome e col nome sulla cassa, quindi diventa uno strumentino al massimo della personalizzabilità, quindi speriamo che questi 10 anni ci portano bene. Andere